Impariamo questa splendida sequenza di arpeggio. Sono otto note che dividiamo in tre gruppi da 3 più 2 più 3. Le prime tre sono quinta corda, quarta corda, terza corda suonate con pollice, pollice, indice. Poi abbiamo un gruppo da due note con quinta corda, prima corda suonate con pollice e annulare. Poi l'ultimo gruppo con quarta, seconda e terza suonate con pollice, medio e indice. Nel mio corso completo fingerstyle facile questo e mille altri esercizi. Link in bio o in descrizione del video. Ma ora dopo aver imparato i gruppi di note, rimettiamoli insieme.